La SIEOG è una società scientifica che raccoglie il maggior numero di ecografisti in ostetricia e ginecologia italiani, ha più di mille soci e organizza in varie parti d'Italia dei corsi formativi. Bari, come tradizione, ha sempre organizzato a intervalli annuali e biannuali questo tipo di problematiche e oggi siamo appunto a Bari a valutare quelli che sono gli ottopis, gli elementi caldi che riguardano la diagnostica della patologia fetale. La più grossa novità è la presentazione delle linee guida della Società Italiana di Ecografia Ostetico-Ginecologica. Sono un punto molto importante perché la legislatura, alla luce del decreto Balduzzi, sta cambiando e quindi è fondamentale, è richiesto dal Ministero, che le società esprimano dei criteri minimi di assistenza per le varie problematiche dell'ecografia in gravidanza. La Seaog ha appena pubblicato le linee guida del 2015 che saranno disponibili in settimana sul sito www.seaog.it e qui a Bari è probabilmente una delle prime presentazioni che vengono fatte in Italia su questo tipo di problema.